La gente si focalizza sulle priorità sbagliate nella maggior parte dei casi, ma ragioniamo un attimo insieme. Cioè se tu aumenti 1500 euro di reddito e ne risparmi 200 e la tua vita costa 1300, se tu aumenti di 200 euro il tuo reddito e non cambi il tenore di vita, se è nella ruota del criceto e andiamo avanti all'infinito, tu hai fatto un investimento e magari ti è costato 1000 euro di specializzazione fare questa cosa, guarda nell'arco di una vita che impatto ha questa cosa, hai raddoppiato il capitale che risparmi, cioè un investimento che si è ripagato in un anno, l'investimento in conoscenza per professionalizzarsi è quello che paga il miglior tasso di interesse.